Bene, continuiamo adesso sulla scorta di quanto ho già affermato la lezione precedente, la analisi del capitolo di Idioma, luoghi e figure, e lo facciamo a partire dal quattro fresco che qui Carlosini ci propone, cioè l'amico infedele naturalmente è un modo per evocare il linguaggio. Perché il linguaggio è un amico infedele? Qui ci dice Carlosini che i pensatori si servono del linguaggio della tradizione e poi il linguaggio quotidiano per poter pensare, quindi i pensatori abitano questo doppio mondo, il linguaggio tradizionale che hanno ereditato dai testi scritti e poi quello quotidiano, ma loro non vedono questo scatto, non vedono questo utilizzo del linguaggio. E di quali linguaggi poi? È il loro reale inizio però questo, cioè fuori dal linguaggio non c'è nessun filosofare, non vi è possibilità di pensare se non si ha il linguaggio, dice così Carlosini. Chiunque si serve di questo amico così definito, tanto disponibile quanto ambiguo e sfuggente, deve fare riferimento anche a una consapevolezza del linguaggio, di un linguaggio quotidiano e di un linguaggio tecnico, di tutte le forme in cui il linguaggio si manifesta. La filosofia oggi è affidata ormai a una molteplicità di altre discipline. Abbiamo per esempio la filosofia storiografica in qualche modo, che studia i filosofi come qualcosa che appartengono al passato e cerca di ricostruirli, ma facendosene nulla, non utilizzando per esempio i pensieri di Parmenide per sviluppare un proprio pensiero autonomo, un pensiero che prenda spunto da Parmenide e poi possa procedere oltre. Ma si studia Parmenide in maniera fine a se stessa, senza farsene nulla appunto. Questo è uno degli elementi in cui la filosofia si è dissipata. L'altro è quello della sociologia, della conoscenza per esempio, una sorta di epistemologia sociale in cui ormai la filosofia da un punto di vista epistemologico si è dissolta e infine anche le scienze umane hanno preso il posto di quello che tradizionalmente era il ruolo della filosofia nell'indagine psichica, nell'indagine antropologica e tutto ciò appunto non appartiene più all'uomo ma a queste scienze umane che vogliono diventare via via sempre più scienze dure, scienze simili al modello scientifico classico come quello fisico o chimico e che non mettono però a loro volta in questione il loro gergo, che è un gergo tecnico e che viene utilizzato senza conoscerne l'origine e senza sapere che i discorsi che si fanno all'interno di questo linguaggio sono discorsi che inevitabilmente sono inseriti in un discorso già iniziato, sono debitori, cioè questi discorsi, di ciò che è già accaduto prima di loro, cioè sostanzialmente si perde l'origine dei discorsi a cui è affidata la conoscenza delle scienze umane. Ecco quindi che il linguaggio deve essere invece posto a oggetto di riflessione dalla filosofia perché è qualcosa che la filosofia sempre comunque usa. Ovviamente qui Carlo Sini non intende di attuare una filosofia del linguaggio su stampo analitico come tradizionalmente si fa quando anche in un corso di laurea di filosofia si affronta questo tipo di argomento che abbiamo anche trattato qui sul canale, naturalmente la filosofia del linguaggio, intende tutt'altro, intende uno sguardo critico sul proprio uso che sia consapevole delle origini del linguaggio. Vediamo per esempio un esempio che è lo stesso Sini fa che ci mostra chiaramente che cosa intende. Parla di Gentile, Giovanni Gentile, noto filosofo che è teorizzatore dell'atto puro e dice, questo autore scrive che prima dell'atto in cui l'io celebra la propria spiritualità non c'è nulla. Dice prima della celebrazione della spiritualità dell'io attraverso l'azione non c'è nient'altro. Io quindi, dice Giovanni Gentile, è uguale a non-io, è un'identità di termini che è pura differenza, cioè l'io coincide con il non-io. Per dire ciò, però, Gentile, non può fare riferimento che ad una tradizione, ad una tradizione che in questo caso è quella idealistica, ma che ha le sue radici in Platone naturalmente, è un idealismo simile a quello di Schelling, per esempio, simile e differente, cioè debitore alla filosofia di Schelling e della filosofia romantica e idealistica, kantiana, e tutta questa tradizione che lo precede fa in modo che Gentile possa dire qualcosa come io uguale non-io, cioè l'io è una identità di termini che è pura differenza. Questo è qualcosa di paradossale che va contro i principi elementari della logica aristotelica, del principio di non-contradizione, appunto. Però, appunto, nonostante questa apparente contraddittorietà, questa sua discorsività è inserita in una tradizione, ci fa notare Sini, una tradizione di lessico, di argomenti, in una cultura che lo precede e rende possibile il suo stesso dire. Ma allora, si domanda Carlo Sini, dietro la lingua non c'è nulla? Dietro il nostro linguaggio che cosa si nasconde? Qual è l'origine del nostro linguaggio, visto che il nostro linguaggio è sempre originato, è sempre precedente al nostro stesso dire? Dietro la lingua cosa si nasconde? Beh, è una domanda che innanzitutto è interna ad una tradizione, dice Carlo Sini. Chiedere che cosa vi è dietro la lingua è una domanda che può esistere, e quindi mostra questa metaconsapevolezza linguistica, che può esistere all'interno di una specifica tradizione. E, dall'altro lato, nota sempre Carlo Sini, si può dire che dietro c'è la vita, si può dire che dietro il linguaggio c'è la vita, la vita di tutti i giorni, la prassi, la filosofia delle pratiche è qualcosa che Sini ha teorizzato, ma, osserva Sini criticamente sulla sua stessa prospettiva, dietro il termine vita, che cosa c'è? Dire vita significa, cioè, rimandare al termine vita. Dire che dietro il linguaggio c'è la vita è sempre da rimanere all'interno del discorso. La vita accade all'interno di una lingua, e quindi è inevitabile essere nel linguaggio, e dietro il linguaggio fondamentalmente non c'è altro che se stesso. Questo vorrebbe suggerire, no? Questo affresco sull'amico infedele, no? È un amico infedele, perché c'è sempre ma tradice, perché non dice mai l'essere nella sua totalità, non dice mai la realtà, la dice sempre sotto una certa prospettiva che è quella di uno specifico linguaggio, ancorché tecnico, ancorché quotidiano, che noi utilizziamo. E quindi anche il tacere stesso, in realtà, che sembra allontanarsi da questa mentalità linguistica, è pieno di credenze, di convinzioni, di supposizioni che non sono affatto tacciute, ma sono semmai non ascoltate, ma presenti nel nostro tacere, nel nostro non dire, nel nostro non parlare. Quindi ecco che cosa ci ricorda costantemente qui Carlossini, che dietro la lingua c'è la vita, ma la vita è sempre inserita dentro un processo linguistico. Quindi bisogna sapere comprendere il proprio sapere e coniugare il proprio sapere, che è un sapere sempre iscritto dentro una lingua, entro l'evento del sapere. Cioè, bisogna essere consapevoli, secondo Carlossini, che il sapere accade a partire da un evento, no? Un sapere accade all'interno di un dato evento, che lo rende possibile. Ad esempio, noi possiamo dire che accadiamo, che definiamo il nostro sapere a partire da una scrittura alfabetica, a partire da la polis greca che ha reso possibile questa scrittura alfabetica, a partire da via via via, andare a ricorrere la nostra origine e esporla in un evento. Ma anche questo stesso evento, che così definiamo come l'origine del sapere, è ciò che rende possibile il sapere, ma accade anch'esso dentro il sapere. Quindi il sapere è correlato alla sua origine evenemenziale, ma il sapere non è qualcosa di estraneo all'evocazione di tale origine, naturalmente. Quindi bisogna sapere comporre il sapere con l'evento del sapere. Bisogna saper comporre il fatto che c'è un evento a partire dal quale l'evento accade, l'evento del sapere accade, ma naturalmente anch'esso accade dentro un sapere. Noi possiamo dire che c'è una scrittura alfabetica perché vi è una pratica storiografica ben precisa. Noi possiamo dire che l'essere umano, come Homo Sapiens, nella sua ultima manifestazione che noi conosciamo, nella sua ultima uscita dall'Africa, out of Africa, come viene chiamata in gergo biologico, esiste, noi diciamo che esiste un tale Homo Sapiens in quanto vi è una specifica pratica che ha dei suoi saperi, delle sue conoscenze, dei suoi discorsi, che sono quelli della biologia evolutiva, per esempio. Ecco quindi che naturalmente siamo sempre in questa circolarità ineliminabile. Bene, questo è un altro affresco e passiamo a quello che Carlos Sini intitola Nella baita. Nella baita. E qui ci parla di un incontro che è avvenuto proprio nella baita di Heidegger, nella foresta nera, nell'autunno del 1935, in pieno nazismo. E qui Heisenberg e Heidegger si incontrano. Heisenberg è uno dei più importanti scienziati fisici del tempo e Heidegger, il più importante filosofo del suo tempo, anche esso affine al regime nazista. Heisenberg lo stesso ha collaborato con il regime nazista e ci troviamo però appunto in questa realtà, nella baita di Heidegger, nella foresta nera. Contemporaneamente fanno notare Carlos Sini, Husserl è a Praga per tenere delle conferenze che poi daranno origine di lì a poco alla crisi, cioè alla crisi delle scienze europee, e naturalmente la stessa cosa dice Carlos Sini di se stesso, io avevo due anni, io avevo due anni, però Bologna. E poi dice Hitler, intanto era Berlino. Quindi cerca di porre proprio questi punti in cui ciascuno deve pensare anche a se stesso, pensare alla sua collocazione rispetto all'evento che evoca. Quindi ci sono Heisenberg e Heidegger, c'è Carlos Sini, c'è Husserl e c'è Hitler. Carlos Sini si mette in questa descrizione in modo da mimo, per dire, per mimare la verità, per invitare ciascuno, cioè a fare esattamente così come fa lui, cioè a trovare la propria collocazione in ciò che si evoca. Ecco, in questo incontro, dice Carlos Sini, non si influenzò molto il pensiero dell'uno e dell'altro. Sostanzialmente Heisenberg mantenne identici i suoi stessi pensieri, un Heisenberg che aveva ormai 34 anni e che era ovviamente interessato alla filosofia in generale, soprattutto alla filosofia orientale, che aveva già preso il premio Nobel, incontrò questo personaggio molto importante come Heidegger, ma non ne rimase particolarmente colpito, almeno secondo quello che ci è noto poi a posteriori da questo incontro. Un incontro ambiguo tra personaggi ambigui, dice Carlos Sini, tra due grandi menti del Novecento che di fatto però non sortì alcun esito. Ecco, in questo dialogo però tra filosofia e fisica si avverte una difficoltà che è assolutamente reale, cioè lo scienziato, dice Carlos Sini, può condividere alcuni discorsi filosofici, ma ciò non cambierà minimamente la sua pratica in laboratorio, cioè anche e quando anche lo scienziato si interessasse come nel caso di Heisenberg di filosofia. Questa sua consapevolezza non si porta dietro, non è portata con sé all'interno della pratica laboratoriale, scientifica, tecnica, che ha dei suoi metodi, delle sue caratteristiche, che sono indipendenti dalla consapevolezza che ciascuno può avere di ciò che sta facendo. È qualcosa che sicuramente è utile a chi pratica in laboratorio, a chi è dentro la scienza, avere una consapevolezza filosofica, ma non è qualcosa che si riflette nella sua stessa attività, che è un'attività in qualche modo indipendente da tutto ciò, perché non si fa intersecare da riflessioni speculative che esulano dal perimetro della materia tecnica e specifica settoriale di cui ciascuno scienziato si occupa. E quindi ciò che si può fare al massimo è nutrire una passione personale nel tempo libero e affrontare determinati argomenti, così come Heisenberg faceva. Quindi non c'è alcun mutamento sostanziale nella prospettiva a livello scientifico, naturalmente, personale, questo non possiamo dirlo, a livello personale soltanto Heisenberg può rendere testimonianza. Entrambi quindi sono dei personaggi centrali, dicevamo, nella realtà storica del loro tempo, entrambi sono nazionalisti e reazionari e avevano una certa simpatia, anche se avevano delle componenti critiche verso l'azione di Hitler. Heisenberg infatti era tra l'altro amico di Himmler, sappiamo che Himmler era un braccio destro di Hitler in qualche modo e grazie a questa conoscenza con Himmler smise di citare Einstein negli articoli sul suggerimento di Himmler stesso per evitare dei guai con il regime nazista, perché avrebbe potuto appunto avere delle serie conseguenze negative. Heidegger sappiamo della sua adesione al nazismo, è nota, e quindi anche all'antisemitismo, che nella sua logica identificava con il dominio della mentalità tecnica dell'Occidente, il libraismo è portatore e latore di questa mentalità tecnica, quindi aveva un inserimento anche nella sua personalissima prospettiva, oltre che per altre motivazioni di carattere più prettamente politico e meno filosofico, è però noi sappiamo anche che probabilmente, e non lo sappiamo in realtà, ce lo possiamo immaginare, non parlarono di questo argomento, cioè del regime itleriano, però appunto parlarono probabilmente di filosofia, parlarono di vari argomenti, ma è chiaro che noi non possiamo rievocare, così come è accaduto questo evento, possiamo semmai averne delle tracce, possiamo avere delle tracce. Ecco quindi cosa ci invita a fare Carlo Sini, a avere questo sguardo che nel filosofo è differente da quello del scienziato, la cui comprensione filosofica non interessa la sua pratica, mentre per il filosofo si può avere uno sguardo differente sul quotidiano, uno sguardo sul lavoro che quotidianamente ciascuno di noi, indipendentemente da ciò che fa, poi può avere in qualità di filosofo, in qualità di consapevole filosofo. Abbiamo infatti tutti noi un insieme di interessi che sono rivolti al quotidiano. Ed è proprio questo quotidiano che deve essere messo in luce, è proprio a partire da questa vita quotidiana che dobbiamo pensare la filosofia. Heidegger, per esempio, qui viene immaginato da parte di Carlo Sini come un pensatore che ha scritto naturalmente importantissimi volumi, essere tempo, che cos'è metafisica, però allo stesso tempo era una persona che aveva le sue abitudini, che si svegliava la mattina, si lavava i denti, scrive Carlo Sini, mangiava, prendeva il trama magari per andare a lezione. E poi questi sono dei pensieri che noi abbiamo in mente, che dobbiamo fare, queste attività così banali. E poi ci sono anche le attività più importanti come quelle di tenere una lezione, andare in laboratorio, per il caso di Heisenberg e invece di Heidegger tenere una lezione davanti a una platea di studenti di filosofia e tutto ciò appartiene al loro quotidiano. È un vissuto che intreccia numerose pratiche e in cui la filosofia accade. Tra questi eventi che vanno dal lavarsi i denti al mangiare, a prendere il trama, appunto, al tenere una lezione, la filosofia di Heidegger, la scienza di Heisenberg accadono in questa quotidianità. Ecco, noi possiamo avere questo sguardo sul quotidiano così come Carlo Sini ce lo evidenzia. Abbiamo poi un ulteriore affresco che ci viene proposto che si intitola Comporre il pranzo con la cena e che è il penultimo fresco che qua ci propone. Qui Carlo Sini si interroga sulla vita dei vagabondi, sulla vita dei senza tetto, dei barboni, che hanno come unico fine fondamentale la sopravvivenza quotidiana. Bisogna stare al caldo, cibarsi, soddisfare i propri bisogni fisici elementari, vestirsi e collaborare poi magari con altre persone per cercare di creare una sorta di collettività sociale. Però è centrale per il vagabondo proprio quello di soddisfare i suoi elementari bisogni. Ma che cosa sa, dice il barbone, si interroga così, proprio con questa domanda e con questa espressione. Carlo Sini, che cosa sa, è il barbone di questo essere socievolmente insocievole dell'uomo. L'insocievole socievolezza è un'espressione kantiana che indica come ciascuno di noi ha bisogno di stare in comunità ma allo stesso tempo ha bisogno anche della sua autonomia, dei suoi spazi personali. Quindi questa insocievole socievolezza è qualcosa che contraddistingue antropologicamente l'umano. Beh, secondo Carlo Sini il barbone, che è un'espressione così generica per indicare un vagabondo che deve appunto sopravvivere alla sua quotidianità, sa molte cose in realtà. Innanzitutto ha conoscenza del suo corpo vivente che interpreta ogni dato oggettivo, cioè un corpo vivente fondamentalmente che è il fondamento di qualsiasi oggettività. Per esempio noi possiamo immaginarci questo barbone che dice che è freddo e poi si risponde 5 gradi, eh, lo credo che fa freddo. Cosa significa questo? Significa che il suo corpo vivente ha sperimentato il freddo e poi c'è una esperienza che viene tradotta discorsivamente e che viene oggettivata nell'analisi quantitativa dei 5 gradi e quindi se ci sono 5 gradi per forza deve fare freddo e quindi la mia esperienza vissuta è qualcosa che è giustificato da un dato oggettivo come la temperatura. Non sa però appunto il barbone un'altra cosa, che il barbone è chiunque di noi, non sia filosoficamente addestrato naturalmente, non sa che la realtà oggettiva è resa indipendente da noi perché noi utilizziamo il discorso e il discorso la oggettiva in quanto tale. Cioè non c'è una realtà oggettiva indipendente che dice 5 gradi è la realtà oggettiva, mentre la mia sensazione del freddo è qualcosa di soggettivo, personale, vissuto da me. No, tutto questo discorso che dice 5 gradi, lo credo che fa freddo come direbbe questo barbone esclamando tra sé e sé, beh naturalmente è una operazione che ha bisogno di un linguaggio, un linguaggio che obiettivo pone davanti a sé, quindi è il discorso stesso a oggettivare la realtà, ma in realtà non c'è nessuna realtà indipendente appunto dal linguaggio, al di là del gioco di parole. Nel discorso parlano gli altri dicendo a me in questo senso, il discorso non è nient'altro che l'introiezione, il riflesso interiore della comunità dei parlanti che emerge nella intersoggettività. Quindi quando si parla, si parla portando con sé ciò che la comunità ha stabilito e la comunità ha stabilito intersoggettivamente dei significati che sono validi per tutti e che quindi illudono in questo senso di oggettività, in quanto intersoggettivamente fondati i significati mi risultano essere in qualche modo oggettivi, ma questa oggettività è una illusione in questo senso del linguaggio, perché appunto ogni dire qualcosa di oggettivo è sempre iscritto in uno specifico dire che non ha niente in quanto tale di obiettivo, ma è una pratica tra le tante, è una modalità di espressione linguistica fra le tante e anche quella massima oggettività che sembra essere il fatto che ci sono 5 gradi e che il termometro misura così, in realtà risulta con l'essere sempre intessuta, intrecciata all'interno di una specifica pratica discorsiva e questo è il Barbone che è un personaggio come un altro, come chiunque non sia filosoficamente accorto appunto non lo sa, quindi è chiaro che nel momento in cui anche parliamo tra di noi portiamo dentro questa introiezione della comunità e ci esprimiamo tra sé e sé, tra noi e noi, e quindi ci sono due noi, c'è uno sdoppiamento di un sé che parla con se stesso, questa è forse la prima formulazione di che cosa è il pensiero, il dialogo muto della mente con sé stesso, diceva Platone, quindi perciò le parole non dicono le cose, sottolinea ancora una volta Carlossini, le parole non dicono le cose, ma dicono che cosa? Ciò che siamo pronti a fare in comune, ecco cosa significano, qui la massima di Peirce risuona ancora una volta, le parole dicono le cose per tutti, lo dicono per tutti perché è ciò che tutti siamo pronti a fare in comune, quindi tutti all'interno di una specifica comunità e quindi lo dicono anche per me, hanno lo stesso significato anche per me, perché anch'io sono pronto a fare quella specificazione in quanto è iscritto in una logica comunitaria. Il discorso dunque che cosa fa? Sintetizza a conclusione, sì, il discorso trascrive in significati verbalmente condivisi i segni del corpo vivente, i segni del corpo vivente sono appunto, nell'esempio di prima, che fa freddo, l'esperienza del freddo, e poi lo si trascrive in significati condivisi da tutti, 5 gradi per forza fa freddo, però anche i segni degli strumenti sono creati dalla comunità sociale in opera, sono creati dalla comunità al lavoro, quindi anche questi segni che trascrivono questa esperienza del corpo vivente sono segni comunitari creati dalla comunità umana appunto, e vengono trascritti in strumenti, il termometro in questo caso, il termometro che misura la temperatura, ma è il bastone, no? Carlo Sini fa spesso questo esempio del bastone, che è qualcosa che ha le sue qualità, e che ha delle qualità di esosomatizzazione, cioè il bastone serve per un noto esperimento, per esempio, per la scimmia, Köhler, nell'esperimento di Köhler, serve alla scimmia per poter prendere le banane, e poi viene però dalla scimmia dimenticato, lanciato, lasciato lì, perché una volta che ha svolto la sua funzione, ecco che la scimmia ha preso le banane, e si accontenta delle banane, mentre l'uomo che cosa fa? Prende il bastone, lo nasconde, lo riutilizza, perché sa che potrebbe riutilizzarlo nuovamente, perché ha messo in quel bastone la propria, il proprio somma, il proprio corpo, le proprie capacità di azione, cioè diventa una parte del suo stesso agire il bastone, quindi diventa strumento, in questo senso, non è qualcosa di funzionale ad una necessità immediata, come per la scimmia, che poi non vede, lo scimpanzé non vede questo utilizzo strumentale e tecnico del bastone, mentre l'uomo lo vede perché lo esosomatizza, cioè trascrive in esso dei segni che ne danno il significato e la riutilizzabilità. Ma tutto questo appare perché nell'uomo vi è la capacità discorsiva, emerge all'interno di quel primo strumento che è primario rispetto ad ogni altra strumentazione tecnica che è appunto il linguaggio. Il discorso, lo strumento e la verità, quindi, sono in un circolo irresolubili e indistricabile. Noi non possiamo pensare alla verità al di fuori di una discorsività che fa uso di parole, quindi è già strumentale in quanto tale e che fa uso di strumenti differenti da quelli discorsivi. Quindi il discorso traduce tutto in un grande racconto, racconto comunitario, condiviso, di abiti di risposta condivisi. Prima, quindi, si vive, conclude a questo punto Carlo Sini, e poi si fa filosofia, deinde filosofare. Prima bisogna vivere. E la vita è una vita quotidiana fatta di pratiche, pratiche anche discorsive, ma sono sempre pratiche. E ogni nostro pensiero, come già aveva sottolineato facendo riferimento ad Heidegger e Heisenberg, ogni nostra pratica precede ogni speculazione di carattere filosofico, no? E probabilmente siamo tutti un po' nella stessa condizione di questo barbone che sta così tratteggiando Carlo Sini, che si ispira ad un barbone che lui ricorda nelle sue memorie di anziano, possiamo dire, come quel barbone che seguiva le sue lezioni alla Statale nell'Aula 111 e che seguiva, probabilmente si immagina lui tra il pranzo e la cena le proprie lezioni, le lezioni tenute da Carlo Sini. Quindi la filosofia viene esattamente tra questo, tra il pranzo e la cena, e bisogna comporre il pranzo con la cena, da cui prende il titolo questo affresco, no? Comporre il pranzo con la cena. E tra il pranzo e la cena filosofare. Però prima avviene il pranzo e poi la cena. Non c'è la filosofia al centro di tutto ciò, perché la filosofia è una conseguenza delle nostre pratiche di vita. È qualcosa che avviene tra infiniti intrecci di pratiche esistenziali, discorsive, che rendono possibile poi qualcosa come la filosofia, un discorso filosofico. Quindi noi utilizziamo i nostri discorsi, ma allo stesso tempo questi discorsi sono modellati dalle condizioni materiali della nostra esistenza. E soltanto questa presenza di una condizione materiale primaria rende possibile delle trasformazioni che attribuiscono significato ai discorsi. Cioè i discorsi hanno il significato che hanno in relazione alle pratiche da cui essi emergono. Perché appunto il discorso è ciò che noi siamo pronti a fare. Quindi nella nostra azione quotidiana che è debitrice di un substrato di natura culturale, storica, sociale. Ecco, arriviamo quindi all'ultimo capitoletto, all'ultimo paragrafetto, all'ultimo affresco di questo capitolo così ampio che abbiamo già visto per le tematiche che si intitola Luoghi e figure. Ecco, questo affresco si intitola Dopo le rovine. Questo video verrà piuttosto lungo rispetto agli altri, nonostante sia la metà di un capitolo, perché proprio quegli argomenti sono estremamente vasti. E dice, a partire da queste considerazioni noi dobbiamo quindi abbandonare la filosofia così come l'abbiamo conosciuta fino ad adesso. La filosofia infatti si è sempre messa in discussione, no? E oggi questa trasformazione però non è una delle tante messe in discussione della filosofia, è una trasformazione di carattere radicale, unico. Si deve infatti guarire dalla filosofia per poter fare filosofia. Dobbiamo adottare, secondo Carlos Sini, un nuovo modo di filosofare radicalmente altro rispetto a ciò che si è sempre manifestato come mutamento intrinseco al pensare filosofico nella sua dimensione storica. E quindi fa riferimento a Kieffer, che è un autore importante, soprattutto studioso di arte, e scrive, l'arte sopravviverà alle sue rovine. Questo libro che viene qui commentato da Carlos Sini è appunto uscito recentemente e scritto da Kieffer. E questo autore invita non a visitare le sue opere, no? Le opere che lui stesso fa, ma le sue officine in cui queste sono nate. Cioè invita il fruitore di opere d'arte non a vedere il risultato ma il processo, a guardare la pratica artistica in atto. Perché è forse lì che può emergere un nuovo senso dell'arte, no? Per non perdere l'arte bisogna guardare alla sua opera. E questo è qualcosa che Carlos Sini condivide. Bisogna, in qualche modo, fare riferimento a quello che Carlos Sini chiama il cartiglio, no? Che è l'officina in cui la pratica filosofica viene messa in atto. Carlos Sini scrive dei cartigli proprio perché in questi cartigli emerge il modo con cui un filosofo pensa, no? È la rappresentazione di una filosofia nella sua pratica iconografica quasi del foglio mondo. Cioè di un foglio che nella prospettiva che Sini dà a questa visione che ha le sue origini in Peirce non è nient'altro che un segno che noi possiamo fare su un foglio e quel segno su quel foglio rappresenta la totalità del mondo in qualche modo. Perché ogni nostra azione, ogni nostro agire, anche un semplice segno racchiude in sé un'intera prospettiva sul mondo. Ecco, questa è l'idea. E quindi trascrivere e rappresentare nel laboratorio della filosofia all'interno di un foglio, che è il luogo in cui la filosofia si dà, il pensiero si dà nella forma scritta, prevalentemente in ambito filosofico, anche se la sua origine è appunto quella socratica, quindi appartenente alla oralità. Noi sappiamo che la filosofia si dà all'interno della pratica scritta. Ecco, mostrare la filosofia in atto nel suo essere vivente, nel suo essere sempre qualcosa di pratico, come anche Kiefer propone per l'arte. Anche Husserl diceva qualcosa di simile, cioè diceva che la filosofia non è un libro, anche quando mostra di esserlo, essa non è un libro. Anche il Tractatus di Wittgenstein diceva in fondo che quel libro che lui ha scritto, appunto il Tractatus Logico Philosophicus, è una scala che serve per arrivare e poi bisogna buttare via tutte le proposizioni, gettarle via, perché l'importante è aver fatto il percorso ed essere arrivati dove si è arrivati. Quindi la centralità non è nel libro, ma nel percorso che si fa, nel lavoro, nell'opera che si compie proprio attraverso la filosofia. Quindi bisogna camminare lungo le origini della filosofia, secondo Carlossini, per far rivivere l'antico nella pratica filosofica in atto. Bisogna visitare quindi l'antichità della filosofia come all'interno di un labirinto. Bisogna visitare questo laboratorio filosofico che è la storia della filosofia, le origini della storia della filosofia e farle rivivere però in questo laboratorio qui ed ora, non in maniera pedissequa storiografica che museifica in qualche modo l'antico, ma bisogna renderlo vivo e visitare la vita laboratoriale proprio della stessa filosofia. Oggi i nostri laboratori, dice così Carlossini, riferendosi proprio a Kiefer, nella frenetica tessitura del tempo non hanno più spessore esistenziale politico, né morale né sociale, così scrive Kiefer. Sono dati questi laboratori in mano a degli imbecilli o degli mediocri o a semplici giornalisti o a dei professori internazionali, così ecco critica Carlossini la filosofia contemporanea, che sono però filosofi ottusi, sono filosofi che non sanno pensare di fatto, secondo Carlossini. La filosofia contemporanea è in mano a delle persone che non sono in grado di riflettere, sono imbecilli, mediocri, giornalistici, professoroni, ottusi. Questo sta dicendo in sintesi Carlossini, dicendo la fine che oggi la filosofia ha fatto anche a livello accademico e soprattutto, anzi direi, a livello accademico. E qui si confronta con ciò che Kiefer riporta, cioè riporta un'intervista in cui Picasso a tardetà ammette di aver dato al pubblico soltanto quello che il pubblico voleva e se era un pubblico di imbecilli si è meritato quello che gli ha dato. Quindi Picasso non si ritiene essere un artista, un artista come potevano essere Caravaggio, come poteva essere Michelangelo. No, Picasso si ritiene una sorta di personaggio pubblico che ha dato quello che il pubblico voleva e il pubblico era un pubblico di imbecilli, quindi elimina la sua arte, la centralità della sua arte e non la ritiene tale. Fa questa operazione di quasi marketizzazione, potremmo dire, dell'arte, di vendita dell'arte, di commercializzazione dell'arte, potremmo in altri termini dire. E Picasso non è consapevole, è consapevole di essere inserito in questo contesto di mercificazione. Ecco, mentre per Carlos Sini bisogna ritornare a questo spirito originale e non fare riferimento a questo prestigio di certi professori che non sono però in grado di esprimere appieno l'essenza della filosofia, la verità della filosofia, che è proprio quella della pratica laboratoriale. In quanto le cose sono disegnate dal lavoro dell'arte, non nelle loro totalità, ma attraverso dei dettagli e attraverso la parte, appunto quel segno del foglio mondo di Peirce che si può cogliere la totalità. Le cose nella totalità non esistono, dice Kieffer citato da Carlos Sini, esistono solo come implicite allusioni di assenza, no? Non c'è la totalità delle cose, ci sono segni che rimandano a questa totalità e la totalità vive in questo rimando, in questo riferimento a ciò che è assente e quindi attraverso quello che Carlos Sini chiama il dettaglio luminoso che si può rammemorare una totalità che rimandi per ciascuno a qualcos'altro di differente e che è rievocazione dell'origine, una origine sempre costitutivamente perduta, mai rievocabile a pieno e che rimandi in questo senso all'oblio, no? Quindi bisogna cercare di analizzare la filosofia a partire dal dettaglio, dalla parte, dalla singolarità, in modo da ritornare a quella totalità, a quella totalità che per ciascuna è unica, è unica, è irripetibile. Oggi, dice Carlos Sini citando Nice, non c'è più che plebe e la cultura e le scuole sono tutte merce e manipolazione delle anime e tuttavia noi abbiamo voluto in questo modo questo, noi abbiamo fatto parte di questo mondo che ha mercificato la cultura, che ha mercificato non solo l'arte ma anche la cultura e siamo vittime di ciò, siamo tutti plebe, non c'è più una aristocrazia del pensiero, non c'è più una elevazione della mente, soprattutto a livelli accademici. Questo iper specialismo che è una specializzazione estrema del sapere, parossistica, è qualcosa che niente a che vedere in realtà con il dettaglio luminoso che mostra attraverso la parte della totalità, ma è una concezione che è angusta della realtà, è una concezione progressiva perché si ritiene che a un certo punto la filosofia avrà la verità, che la verità si deve ottenere con metodi rigorosi, scientificamente validi e quindi anche in filosofia si adottano queste prospettive di specialismo e scientificizzazione della scoperta della verità, ma lo si fa operando in un modo che non dà una visione della totalità del mondo ma ci dà una visione angusta e in realtà non progredisce in realtà, cioè in realtà in questo modo il sapere scientifico, filosofico non ha alcun progresso ma semmai ha un regresso perché nessuno di noi è in grado di ottenere una prospettiva della totalità, che non si dà esibendo la totalità perché la totalità è inesibibile, appunto, lo ribadisce Carlos Sini, ma lo si fa attraverso i dettagli luminosi, quelli che lui chiama così, anche i cartigli, in modo che essi possano provocare, rievocare, riattivare la memoria della propria origine, del proprio orizzonte perduto, del proprio orientamento nel mondo, orientamento che necessita uno sguardo totalizzante e quindi si può guarire della filosofia soltanto in questo modo, soltanto facendo della parte, del dettaglio luminoso, del laboratorio della filosofia qualcosa di centrale, quindi cambiando il modo di fare filosofia, eliminando la filosofia nella sua presentazione canonica e classica che vuole dare e vuole esibire la totalità in un sistema, in un corpus di dottrine, ma fare lo stesso, cioè alludere la totalità esibendo la parte, quindi prendere ciò che di utile c'è in questa specializzazione, ma non portarla all'estremo, ma prendere della specializzazione l'interesse al dettaglio, l'interesse alla parte e attraverso questa operazione cercare di ricreare quell'orizzonte di senso unitario perduto, questo è ciò che la filosofia è chiamata a fare oggi, data la sua crisi, quindi in questo modo si parla delle rovine della filosofia che possono essere risanate attraverso questo dettaglio. Con questo concludiamo.